Roki, sei grande! Essi dall'angolo! I due si scambiano un numero impressionante di colpi! Roki, una indietreggia di un passo! Ancora, Roki, ancora! E' un gran campione! Vai coraggio! Grazie a te per l'opportunità! E' stato il più grande combattimento della tua vita! Ti è piaciuto? Sono questi gli incontri che ti fanno crescere! Hai visto, Pauli? Te l'ho fatta! La bestiazza è uscita! Una delle parole che viene più usata nel mondo dello sport è incredibile! Ma quello che è successo stasera è davvero incredibile! Grazie a tutti! Signore e signori, prima di comunicare il risultato, vi chiedo un grande applauso per questi due straordinari guerrieri! La decisione non è un'anima! Adelaide Verna ha decretato 95 a 94 per Dixon! Sarkham per 95 a 94 per Balboa! E Bill Grant, con il suo 95 a 94, fa prendere la bilancia dalla parte del vincitore, che è ancora l'imbattuto campione del mondo dei pesi massimi, Mason Dixon! Sarkham per la visione! 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 Vieni! 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 Sei stata tu a darmi la forza. Grazie, Adriana. Grazie, Adriana.